Ed eccoci qua, eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre con il microfono e la cam accesi. Allora, ci sono delle cose che partono in automatico, tipo le pubblicità di YouTube, prima dei video su YouTube. Oppure, ancora peggio, ok, quando visitate un sito vi si aprono schermate intere che vi oscurano le parole, i contenuti, e voi siete là che cercate la X e dovete anche stare attenti perché se mai cliccate per sbaglio un millimetro più a destra o più a sinistra vi trovate iscritti a centinaia di mailing list, nel migliore dei casi. Diciamo che verso Natale ci sono anche altre cose che partono in automatico, però sono altrettanto dannose, secondo me. Una di queste cose sono i buoni propositi, ok? I buoni propositi che tutti comunque fanno a Capodanno, verso la fine dell'anno, i buoni propositi per l'anno nuovo, che secondo me sono decisamente dannosi. E adesso vi spiego anche il perché, facendovi un altro esempio. Avete presente quando andate al supermercato? Il segreto di fare una buona spesa è andare con la pancia piena, perché se andate con la pancia piena, ok, prenderete le cose che veramente vi servono. Se invece ci andate con la fame, cominciate a riempire il carrello di porcherie, di troiate, di puttanate, e alla fine vi trovate una spesa che costa una cifra esorbitante e alla fine nel concreto non avete un cazzo. Ed è la stessa cosa dei buoni propositi. Alla fine dell'anno, che il Capodanno è proprio un passaggio, vi trovate magari a fare i conti con tante cose, con il tempo che passa, con quello che avete realizzato, quello che non avete realizzato. E quindi rimandate all'anno dopo moltissime cose. Oppure dite, l'anno prossimo sicuramente devo far questo, devo far quell'altro, per dopo magari scoprire che non avete fatto niente. Per questo che dico che i buoni propositi, quando magari siete con l'acqua alla gola, perché vi sentite un po' più vecchi, vi sentite un po' più soli, vi sentite un po' più, tra virgolette, falliti, non hanno un senso, secondo me, fare buoni propositi, fare una lista di buoni propositi. E allora potreste dirmi quando è il momento di fare questa lista? Quando è il momento di darsi degli obiettivi e cose del genere? Io ci ho anche riflettuto in questi anni. Penso mai, ok? Perché quando vi date un obiettivo, quando guardate verso un obiettivo, in automatico, secondo me, escludete tutto quello che c'è attorno. Perché siete fissati con una cosa, andate diritti verso quella cosa là. E nel farlo magari vi perdete tutto quello che c'è. Vi perdete la visione a 360 gradi. Se guardate solo una cosa. Però dopo magari arrivare alla fine dell'anno, che non l'avete realizzata. E quindi... Vi sentite un po' sconfitti, ok? Per questo che dico, è inutile fare quindi una lista di buoni propositi, adesso che siete con l'acqua alla gola, che mancano pochi giorni. Certo vi farà un po' la speranza vi fa andare avanti, cosa? Gennaio? Però quando arriva già febbraio, marzo, aprile, l'estate, vedete che le cose traballano. Non è una bella sensazione. È per questo che dico, meno buoni propositi, meno promesse da farsi. Vivere più alla giornata, ok? Non escludersi niente, non escludere niente. Avere una visione a 360 gradi. andare avanti, però tenersi aperte mille porte. Non solo una, mille porte. Non un obiettivo. Tanti, ma tanti. Guardarsi attorno e vedere un obiettivo ovunque. Questo penso che sia la cosa giusta da fare. È cominciare subito, non aspettare il primo gennaio. Perché ogni giorno perso, secondo me, è un giorno che levate a quella realizzazione, a quella felicità, che comunque è il fine ultimo di tutto, di tutti i nostri cosiddetti obiettivi. Alla fine tutti i nostri obiettivi devono convergere verso proprio una sola parola, la felicità. E questo è quello che mi auguro e vi auguro. e buona notte.